ecco villaggio dell'amore e dell'altruismo ok questo è un gruppo facebook nato tempo fa molto tempo fa ok è stato chiamato eco villaggio dell'amore dell'altruismo proprio per poter selezionare infatti questo è scritto nella copertina la selezione di persone speciali appena cominciata è stato chiamato eco villaggio dell'amore dell'altruismo perché la parola altruismo fa molto paura ok specialmente chi riconosce di essere egoista e chi vive per l'egoismo ok infatti questo gruppo ha solo ha solo 92 membri pochissime persone e tra l'altro anche pochissimo interessate ok perché la parola altruismo veramente fa molto paura la parola altruismo la parola no profit la paura associazione la paura community la paura scusate la parola condivisione la paura la parola progetto fanno paura molto paura perché in realtà molte persone oggi più che mai gli piacerebbe veramente avvicinarsi agli eco villaggi ok gli piacerebbe avvicinarsi agli eco villaggi perché oggi magari hanno perso tutto non hanno più nulla e allora dicono ma sarebbe bello andare in un bellissimo eco villaggio dove vado a farmi le vacanze dove tutti condividono tranne io e così praticamente usufruisco senza far niente ok eco villaggio o per abitare o per essere membro di un eco villaggio non è facile non è facile perché ci sono delle regole di convivenza ogni persona deve avere delle qualità per forza delle qualità ok deve saper fare qualcosa deve saper costruire deve saper coltivare si deve intendere di natura bisogna saper fare agricoltura tante cose e la mia cultura di eco villaggi ecco questi sono cooperazione altruismo positività regole spiritualità competenze crescita collettiva c'è ma queste sono il minimo perché una persona non cooperativa non può stare in una comunità di persone ok o in un gruppo di persone lo sappiamo benissimo qui non parliamo dell'incontro di uno o due domeniche l'anno che fate con gli amici ok qui parliamo di convivenza di ogni giorno perciò la cooperazione importantissima l'altruismo è importantissimo una persona positiva nel gruppo è importantissimo perché una persona negativa nel gruppo blocca la forza di volontà a tutti gli altri ok le regole la maggior parte delle persone vuole scappare dalle regole del sistema ok perché odia le regole in un eco villaggio o in una coabitazione ok o in un gruppo le regole sono importantissime e sono da rispettare ma non rispettare rispettare con orgoglio non con sacrifici o con enormi sacrifici o malcontento la spiritualità che non è religione è qualcosa di sopra della religione ok la spiritualità e sono i valori i valori dell'anima i valori della coscienza poi le competenze e la voglia di crescere ok no la voglia di stare seduti sul divano dalla mattina alla sera mentre gli altri fanno tutto il resto infatti questo gruppo è andato pochissimo avanti ma anche tutti gli eco villaggi gli eco villaggi le persone vanno e vengono fanno delle esperienze però vi posso assicurare che è meglio partire con il piede giusto perché allora si perde tempo e fate perdere tempo gli altri ok da questa selezione qua non è una selezione che riguardava solo il gruppo ma io e altre persone tante altre persone abbiamo creato altri gruppi per vedere se le persone erano veramente pronte ok e e da lì abbiamo visto che in realtà sono pochissime quelle pronte le persone pronte sono sono veramente poche sono veramente pochissime perciò approfondite questo argomento approfondite prima di fare qualcosa insieme agli altri tutti i progetti che propongo io sono progetti che praticamente ci vogliono più le qualità che le quantità di denaro ok le qualità perché col denaro è facilissimo fare un eco villaggio si mettono 100.000 euro a testa chi non ce le ha se li fa prestare dalle banche e si fa un eco villaggio ok ma ma poi alla fine gli problemi sono tantissimi perciò l'ideale cominciare con magari una quota iniziale di mille euro e provare la convivenza e anche lì è difficile se non avete già da prima fatto una certa scuola se prima non avete una certa formazione ok formazione perché tutti vorrebbero fare una vita così come questa immagine tranquilli ok tranquilli magari con un pacchetto di sigarette al giorno e sono già 150 euro al mese con 12 operativi e aperitivi al giorno e sono già 300 euro al mese qualcuno con delle droghe perciò bisogna imparare a vivere con poco e non vivere di vizi ma vivere di natura di bellezza perciò la selezione è iniziata in realtà nel 2012 ma vi posso assicurare che quelli che hanno superato i test su migliaia di persone ma non solo da me anche da altri sono veramente pochissime però con le pochissime persone potrebbero già cominciare perciò prima di tutto prima di tutto la forza di volontà il coraggio e la fede di iscriversi a un'associazione e già contribuire a distanza con un'associazione ognuno ricopre più ruoli per ricercare altre persone ma nel frattempo per formarsi studiare fare dei corsi viaggiare conoscersi allora dopo sì che le persone si possono riunire per fare qualcosa e prima di un ecovillaggio bisogna cominciare a fare weekend sapete quante persone volevano contribuire alla creazione di un ecovillaggio ma poi alla fine non avevano mai tempo di incontrarsi la domenica per mille scuse ok perciò perché volete buttare via i soldi e il vostro tempo cercate di essere coerenti ok inviate questo video a persone interessate io con altre associazioni già da tanti anni stiamo preparando dei programmi e dei progetti tra cui il progetto 21 ma anche altri progetti dove praticamente facciamo una certa iniziazione alle persone all'amore alla condivisione ok crea il tuo piccolo mondo e condividilo con i tuoi simili crea intorno a te vitalità amore condivisione cooperazione crescita interiore impegno reciproco al miglioramento totale totale crea una rete di anime gemelle perciò le persone negative qui non sono non sono accette lo sappiamo le persone pessimiste le persone con la con mala fede le persone senza forza di volontà le persone con i vizi ok le persone che data la loro arroganza e la loro pseudo potenza sono rimasti oggi soli e mezza una strada se non cambiano mentalità non entrano anzi non vedranno neanche le porte d'entrata per queste realtà perché ogni persona che crea queste realtà come me ha l'obbligo verso gli altri di creare anche dei cancelli di creare anche dei cancelli perché questa è una vera e propria selezione non dobbiamo perdere tempo a tirar via le erbacce ma dobbiamo seminare dobbiamo seminare per la crescita dell'amore l'amore condiviso ciao a tutti e buona continuazione ciao a tutti